Amici e amiche di Volume Bright, siamo qua con Simone Stara, presidente dell'associazione Neocostituitasi, va bene? Seminiamo principi. Nulla, vorremmo reso conto del convegno di stasera? Come è andato? Si poteva fare di più? Si può sempre fare di più nella vita, però possiamo dire che come prima esperienza, visto che in Piemonte è il primo convegno di questo tipo che viene organizzato da più associazioni, perché la differenza, a differenza degli altri, appunto, scusate il gioco di parole, è proprio il fatto che più associazioni si siano unite e si vogliano unire sotto un'unica federazione per far valere appunto il diritto alla salute citato nella Costituzione italiana e nell'articolo 32. Quindi il reso conto è più che positivo perché questo è l'inizio di quello che sarà un percorso volto a lottare per un diritto, quello alla cura e alla libertà di scelta. Non mi sento di fare proclami, però sicuramente i nostri progetti, i nostri obiettivi sono mirati a tutelare il paziente in primis, quindi sarà curioso seguirci per le iniziative che intraprenderemo e soprattutto per le azioni che intraprenderemo. Benissimo, vi seguiremo allora. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.